Ciao bellissimi, sono Crax, bentornati non su Clash Royale ma finalmente in un canale di un pro player che tra l'altro conosciuta Helsinki, foto esclusiva per voi, sto parlando di Mugi, ex campione del mondo di Clash Royale del 2021 abbiamo fatto diverse reazioni alle partite pure, mi sembra la finale contro Momo Light Mugi ha riperso quest'anno a Helsinki in semifinale Luser Bracket proprio contro Momo, correggetemi se sbaglio che poi ha vinto il mondiale, cose pazzesche, perché siamo qui? Perché Mugi è riuscito ad arrivare e a chiudere la prima stagione del Lega in assoluto terzo al mondo con un deck in cui all'interno troviamo sia Monk che la Fenice seguite il video, ovviamente trovate il link in descrizione, iscrivetevi, lasciate un like però prima di partire lasciate un like pure a questo video che è tanta roba, un attimo che devo cambiare la schermata eccoci qui se volete altre reaction, iscrivetevi e campanella, codice Crax ovunque finalmente mi sono arrivate, un attimo che le prendo tutte le action figure de Bro Stars, me le hanno mandate, le potrò mettere nel nuovo studio queste sono quelle da 17 cm, ora dove le metto? Le mettiamo da questa parte sono veramente tantissime, le potete acquistare nei migliori negozi di giocattoli sono distribuite da Gamevision, attenzione perché queste qua da 11,5 si trovano anche nelle migliori edicole distribuite da Jedis, me le hanno mandate tutte, sono 5, le vedete qua dietro oltre a questo ci sono anche i peluche e li abbiamo tutti e 4, eccoli qui tutti quanti i portachiavi e anche la versione di quelle un pochino più piccoline così tascabili praticamente, da 24 di cui alcune sono super rare di questi ci sono i pacchetti da 8, da 5 con dei brawler nascosti cercateli perché sono veramente top non vedo l'ora di metterli esposti, seguite il Grax, è tutto disponibile, potete trovare tutto quanto si va al volo sul canale e nel video di Mugi pronti a reagire a quello che ha combinato con questo deck un attimo che sto troppo avanti, è un deck Miner Cycle qui ci fa vedere intanto il suo risultato terzo al mondo, 2914 medagliette, player clamoroso purtroppo non può farci vedere replay perché credo che con la manutenzione del cambio pass se si è buggato tutto quanto 3.1, mi sembra una sorta di me activo torre con Fenice Monk non è vero perché non è la tornata quindi non è il me activo torre, è un Miner Control ho alzato leggermente l'audio perché se no non si sente lui parte col Miner, Instant sulla parte destra all'angolino così che non può essere strattonato dalla Tornado l'avversario ha una Valkyria la torre bombardiera mi dà tanta stabilità è una struttura che mi fa sentire il sicuro non so se anche a voi dà lo stesso effetto mette Monk subito attenzione, vediamo se lo andrà ad abilitare Instant Ability gli scheletrini non possono fare niente la streghetta viene praticamente buttata giù è una carta ragazzi una carta che non è un minimo di senso vediamo se riutilizza l'abilità non credo che faccia in tempo perché l'avversario mette il bariletto per pochissimo poteva praticamente sradicare quasi totalmente il cannone si difende no mette una Bombi Tower pensavo mettesse il Minatore per colpire il Cannon Cart quella Bombi Tower colpisce il cannone se ferma tutto quanto la torre riesce a colpire il cannone a distanza il cannone è troppo distante per colpire la torre siamo tutti contenti Congelino Minatore il Kongi congela il Minatore colpisce grosse palate sulla torre di destra è un deck un po' lento perché devi costantemente fare ship damage con Velene e Minatore mette la Bombi sulla parte di sinistra vediamo se l'avversario ha una big spell alla terremoto che tra l'altro abbiamo visto pure all'inizio infatti toglie la Bombi Tower come difenderà quel gigante elettrico se prende il doppio danno solamente una scarichetta 2004 contro il 2000 dell'avversario tra l'altro anche lui pur essendo arrivato terzo al mondo si è ritrovato risettato a Lega 1 con credo il moltiplicatore delle vittorie penso che si c'è il per 6 diciamo che quest'inizio è da rivedere vai con il faggiano sulla parte di destra investito ci mette Monk sotto pronta a respingere danni e va di ability perché è così pensavo che i traghetti subissero danni probabilmente non li hanno subiti perché stavano targettando la Fenice buona quella veleno vediamo se parte con un minatore cioè lui subisce pochissimo ha una difesa completissima quello se ne va sulla parte di sinistra messo così a sinistra riesce comunque a prendere quella terremoto mette Monk 1 2 e quello ritorna indietro e non itterà mai mamma mia Monk che può essere mette la veleno per togliere tutti quanti gli scheletrini va in abilità così da respingere pure danni su torre questo è un deck che si può provare ragazzi perché non è impossibile utilizzare anzi fa dei danni pazzeschi e ha un'ottima difesa perché Monk respinge perché il minatore colpisce costantemente la veleno fa danno sicuro indebolisce tutta quanta l'area tu basta che metti Monk davanti nel momento in cui Monk supera il ponte e la torre lo targetta tu sicuro fai danni a torre di sicuro c'è quel danno che serviva al deck minor control per massacrare le torri dell'avversario spettacolo pirotecnico aggiungerei lasciate like se volete Grax provi questo deck ma sono curioso di sapere chi ha chiuso per primo come primo la stagione precedente magari mi informerò cercherò dei gameplay ve li porterò dipende tutto dai like dalle iscrizioni dalle campanelle voi supportate non vi chiedo niente next partita minatore sono tutte partite che in teoria vanno all'overtime perché il minatore fa chip damage dannini piccolini lui mette la fenice che va a colpire instant il mini pecca fate danni clamorosi il mini pecca non hitterà mai tiro log invece il mini pecca sta vittando perché messa in quel modo dalla fenice non riusciva a colpirlo nel momento in cui lui sgattaiolava via monk no mette la goblin gang mette monk per farsi attivare la torre esatto buona l'attivazione buona la fireball lui non respinge in teoria gli basta far passare monk dall'altra parte abilitarlo cioè praticamente tu risparmi una cosa come 7-8 danni della torre che potrebbe fare sul minatore è troppo forte troppo forte poi perché lui aveva monk quasi morto se fosse stato full life come fai a fermare poi il minatore è impossibile è un deck troppo completo questo buono quello vetto fa tornare indietro un secondo il gran cavaliere mette la verena non credo la selezionata ma non penso gli convenga appena lui jumpa dovrà tirare il log e ci poteva stare pure un monkito però giustamente c'è la torre centrale ha preso parecchi danni attenzione vuole avere monk probabilmente full life dopo il ponte mettendolo contro il gran cavaliere avrebbe subito diversi danni lo piazza dal back ci mette non la goblin gang aspetta la mette adesso fenice sopra ora può solamente utilizzare l'abilità respingere i colpi della pirotecnica mettere il minatore fenice sotto torre un aratro ragazzi un panzer non lo so indistruttibile monk praticamente ti respinge il colpo della pirotecnica uccide la pirotecnica e massacri la torre dell'avversario perché è un colpo pieno così due win cinque punti per lui nel chilling più assoluto vediamo il terzo match poi ci fermiamo il video ricordo lo trovate ovviamente in descrizione due partite massacrata la lega 1 in un secondo buono quel log prende al volo il primo spaccamuro goblin gang a destra non fa entrare neanche un colpo mugi che player ragazzi mugi che player però devo essere sincero a Helsinki durante il crash fest per le finali mondiali Momo ha dimostrato di essere un mostro sacro rispetto agli altri player c'è qualcosa proprio di ineluttabile citando Thanos ineluttabile Momo attenzione al prince se prende danni la fenice becca guarda che beccate che gli tira ovetto rimane il moschettiere può tirare un log lo tira a sinistra goblin gang no vadi monk e comincia ragretto a fare il suo gioco moschettiere massacrato monk c'è un botto di vita qui conviene abilitare perché gli sgheriti prendono il danno certo perché sparano il danno killa tutti quanti la bandit fa danno fisico ma comunque viene un attimo schiaffeggiata goblin gang buone quelle frecce fosse stato un capellino prima avrebbe fatto male quella bandit minatore che procede da solo dritto su torre e su due palate tre palate easy peasy mi sa che non ho mai reagito ad un deck con un minatore è una prima volta per grax gg per lui monk da dietro contro il gran cavaliere monk lo può letteralmente massacrare con gelino che connette ed è chip damage per il nostro mugi che è molto contento di fare chip damage bomb tower penso che gli spaccamuri vengano tolti e non subiamo danni sulla torre monk non lo va a abilitare l'avversario ha fatto un bel pushetto gli ha fatto male ma dovrebbe essere tutto sotto controllo perché col minatore devia non prende danni c'è sta il bombone della bombi utilizza la poison sta difendendo anche Sam non sta giocando male va di veleno arriva il congelino il moschettiere avversario viene tolto del tutto bandit sulla parte di destra prova ad evitare il predict delle frecce che l'avversario non mette difesa avvenuta con successo come fa a fare il push considerando che l'avversario si barria con il gran cavaliere e non gli consente di ripartire con il minatore bombi tower di nuovo principe messo sulla sinistra questa volta cerca di fermare il gran cavaliere con l'abilità di monk e monk già sta quasi a metà ability però mette una veleno e chip damage attenzione buoni quei danni non riesce a ricaricare l'abilità c'è la bandita la fenice punzecchia e ci sta log pulisce la bandit occhi a sinistra l'avversario non è male l'avversario non è male forse il primo vero avversario mette il congelino per fermare tutto monk davanti è pronto va a utilizzare minatore abilità è una fortezza è una fortezza guardate danni guardate come si scioglie piano piano l'avversario perde il prince doppia fenice doppio faggiano c'ha pure il congelino riesce a far girare tutto con un semplice spacca muro ci sarà un doppio vetto di cui una fenice full life riesce credo a poppare pure la seconda fenice no perché i danni dell'arciere dopo il bilanciamento toglie sempre la fenice l'avversario ci ha provato ma lui basta semplicemente mettere monk con la goblin gang costringe l'avversario a tirare le frecce mette il minatore respinge i colpi tira la poison non dovrebbe neanche servire probabilmente vediamo no forse serviva mette la bombi tower è vero perché siamo a livello 11 giusto io vedo i danni ma bisogna calcolare i danni che fanno le carte a livello 11 qua favore il perfect timing con il doppio danno si attiva la door ragazzi io mi fermo qua mugi terzo al mondo vi chiede di lasciare un like riscrizione a campanella per altre reaction deck clamoroso da copiare se avete le carte provatelo perché spacca tutto link in descrizione un bacio da grax codice grax e noi ci becchiamo al prossimo video ciao belli ciao ciao